che sta per nascere il giorno di Natale, che ci protegga e ci assista tutti i giorni la nostra vita in nome del padre, mio figlio e lo spirito santo. Facciamo un applauso. Iniziamo a dire domenica per l'accoglienza di oggi, è la prima volta che si dice una famiglia, è sepolto lì perché negli anni 40 hanno fatto una ricondizione, il suo corpo sta lì, non si trova il suo nome, ma c'è il nome della famiglia, questo testimone che è presente in quella cappella, poi è conservata lì, una polla, pare che ci sia un po' di cuore in questa ampolla, però noi non la vediamo, ma qui c'è la lapina in sopra, questo sono un po' documentato. Grazie a tutti i giorni, ci hanno anticipato un po' questo clima di Natalizio e a tutti voi ci ho dato questo corso di Natalizio. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Va bene, grazie a tutti. E buona data tra le famiglie, a tutti i giorni, grazie a tutti i giorni.